Vi ho già parlato di iPhone 15 Pro, telefono che ho avuto modo di testare durante l'ultimo mese. Oggi però saremo un po' meno teorici e andremo a vedere nello specifico come si comporta un file scattato in RAW con questo telefono. Nello specifico mi interessa farvi vedere quanto è lavorabile il file. Quindi nel momento in cui scattiamo in RAW, quanto possiamo modificare questo file, fin dove ci possiamo spingere e com'è la resa finale. Se vi interessa questo argomento vi consiglio di seguire questo video fino alla fine perché vi mostrerò l'intero processo di post-produzione su una fotografia scattata con questo device. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia. Se non avete ancora visto la serie di video che ho pubblicato su iPhone 15 Pro, vi invito a recuperarla. I video sono già pubblicati sul canale, abbiamo parlato della qualità foto-video, abbiamo parlato di app di terze parti. Insomma, ci sono già un bel po' di video su questo argomento, ma oggi andiamo a vedere nello specifico come si comporta questo telefono nel momento in cui scattiamo in RAW e se vale la pena scattare in RAW. Quindi andremo a cercare di capire, con un file ben preciso, se riusciamo a ottenere la stessa cosa o vicina a quella che otterremmo con una fotocamera professionale. Prima di cominciare vi ricordo, nel caso steste guardando questo video e non foste ancora iscritti al mio canale, che potete farlo immediatamente cliccando il bottone qui sotto. A voi non costa nulla, a me date una grossa mano. Ok, eccoci qui all'interno del mio computer. Questo qui è il file DNG che ho scattato con il mio iPhone 15 Pro. Andiamo a vedere il dettaglio ingrandito al 100%. Non facciamo i pignoli, non zoomiamo al 500%. Al 100% si comporta bene. Andiamo a vedere un po' di profili. Intanto questo qui è il profilo RAW monochrome di Apple, mentre questo è il profilo RAW e basta, quindi ha colori. Ora, io potrei anche utilizzare, tra l'altro c'è anche un amount, dovrei studiarmela bene questa vicenda qui, però sapete che secondo me potrei andare tranquillamente su Adobe Color, perché mi sembra che il risultato sia buono. Oppure potremmo tenerlo così. Adesso andiamo a vedere nel momento in cui vado a mettergli tutte le impostazioni solite, che farei veramente se questa fosse una fotografia fatta con una fotocamera. Andiamo a maltrattare un pochettino l'immagine, andiamo a scoprire come si comporta. Io adesso vado a mettere un po' di autunno laddove di autunno ancora non ce n'era. Vedete? Questa è una cosa tipica che faccio spesso sui file RAW perché posso farlo, perché questi file si lasciano maltrattare con una caduta qualitativa pressoché nulla. Quindi a differenza del JPEG, dove sì, lo possiamo fare lo stesso, però un po' di artefatti potrebbero venire fuori, qui invece lo facciamo e gli artefatti non dovrebbero quasi essercene. Se questo fosse un file proveniente da una macchina fotografica, siccome non lo è, adesso andiamo a vedere come si comporta. Io qui ci gioco, lo sto tirando apposta senza uno scopo preciso, quindi sto semplicemente vedendo come si comporta nel momento in cui vado proprio a stravolgerla. Faccio delle prove, vado a vedere tutti i colori come si comportano. Dunque, vediamo un po'. Perché io so benissimo, vedete? Vedete quanto può cambiare un'immagine? Nel momento in cui io vado a lavorare selettivamente sui colori, posso veramente cambiare faccia alla fotografia che ho fatto. E ovviamente sarà meno fedele a quello che avevo davanti ai miei occhi, però potrebbe essere più accattivante per un osservatore. Quindi io non me la sento di dire che tutto ciò sia sbagliato. Andiamo a vedere prima e dopo. Vedete che è molto diversa. L'abbiamo abbastanza stravolta, che è abbastanza vicino a quello che volevo ottenere ed è quello che volevo fare. Adesso andiamo a lavorare un pochettino sulla nitidezza perché normalmente quando scattiamo con l'iPhone e basta, ho sentito molti lamentarsi del fatto che siano troppo taglienti, troppo sharp. In realtà a me quella sensazione piace abbastanza anche perché l'iPhone è pensato per andare su Instagram e quindi le immagini sono molto nitide perché poi si vedranno piccole. Quindi quella nitidezza che a tutto monitor o a tutto schermo può sembrarci troppa. Poi quando andiamo a vedere l'immagine è piccolissima, in realtà va bene secondo me. Andiamo a dargli un po' di riduzione del rumore. Giusto per... io sto facendo le cose che farei normalmente se fosse una fotografia fatta per davvero, una macchina fotografica vera. Quindi gli vado a dare tutti i miei parametri e poi vediamo come risponde. Masking è sicuramente troppo dettaglio, lo aumento un pochino e anche la sharpness lo aumento un pochino perché voglio vedere quanto dettaglio riesco a tirare fuori da questo file. Io voglio farlo nitido come se fosse scattato con iPhone direttamente. Andiamo a dargli anche un po' di color grading perché voglio enfatizzare ancora di più questo feeling autunnale. Diamo un mood un po' così, un po' dreamy. Vediamo come si comporta sulle luci, gliene diamo poco che non bisogna mai esagerare. Ok, ok. Questa potrebbe essere una modifica classica che si fa su una foto di questo tipo. Vignettatura giusto un pochino senza esagerare. La vignettatura è evidente, è una delle cose più antisesso dell'universo secondo me, quindi bisogna essere molto parchi. Andiamo a vedere se posso inserire un pochino di curve, ma pochissimo anche qui. Facciamo una S però non esasperata, deve essere proprio una cosa blandissima. Ok, una cosa del genere, sì. Ragazzi, devo dire che la fotografia si comporta abbastanza bene. Adesso noi la esportiamo perché voglio fare delle cose in più, voglio fargli una passata in Photoshop. Però fin qui devo dire che l'immagine si è comportata bene perché non si è sfarinata, non è andata in mille pezzi e ha retto. Molto bene, siamo qui all'interno di Photoshop. Ora non sto a farvi vedere tutti i passaggi perché queste cose le ho già fatte vedere in altri video e risultano noiose. Abbiamo aggiunto delle foglioline, sapete che non c'erano, abbiamo aggiunto delle foglioline e abbiamo aggiunto un po' di colore. Vi dico che le abbiamo aggiunte perché nel DNG originale non c'erano, quindi sarebbe sciocco da parte mia farvi credere che queste foglioline siano comparse così di punto in bianco. Abbiamo aggiunto un livello di miscelazione e colore e un livello di tonalità e saturazione che riescono a tirare fuori colori che dal RAW magari non eravamo riusciti a ottenere. Adesso io duplicherò questo livello, andrò ad applicargli un high pass perché voglio enfatizzare la nitidezza ulteriormente nel centro del mio fotogramma. Quindi adesso andiamo a mettergli una bella maschera e con un gradiente radiale bianco-nero andiamo a mettergli la nitidezza solamente in centro. Spero che riusciate a vederla, in realtà ne dubito, io la vedo, fidatevi di me. Quindi ora abbiamo riaperto tutti i colori, questa qui è l'immagine che potrebbe tranquillamente essere finita già così, ma io voglio esagerare ancora di più e quindi lancio questa azione e vado a creare un bel flare, bello incandescente da tramonto autunnale. Adesso vado a giocarci un pochino, lo facciamo un pelo più grande e lo spostiamo un pochino più su. Fate finta di non vedere quello che sto facendo. So che i puristi non apprezzeranno una cosa del genere perché questo è proprio Photoshop, non è più fotografia ma è digital art, quindi sono due cose diverse. Io personalmente non ci vedo niente di male nel barare in questo modo se quello che stiamo facendo è funzionale alla buona riuscita dell'immagine. Sicuramente vederla prima e dopo ti dà proprio quella sensazione di dire ok allora hai barato. Però noi qui non dobbiamo pubblicarla questa, forse la pubblicherò anche però, noi qui la stiamo esaminando per vedere come si comporta il file DNG dell'iPhone 15 Pro. Ragazzi dategli un'occhiata, secondo me fatta con la macchina fotografica sarebbe stata meglio però non ha tanto da invidiare. Quindi da questo punto di vista secondo me è un'immagine che ci può tranquillamente stare. Tenete anche conto poi che una cosa del genere ovviamente io non la vado a stampare su un formato di 70 cm di lato. Una cosa del genere finisce su Instagram, al massimo finisce come slider o come banner su un sito web. Quindi nessuno la vedrà mai ingrandita 100%, la vedranno tutti molto più piccola. Secondo me lo dico con un po' di rammarico perché mi piacerebbe pensare che i fotografi, le macchine fotografiche continuino ad avere un vantaggio. Però devo dire che su questa foto, perlomeno su questo genere fotografico che può essere paesaggio, come può essere foto di viaggio, come può essere foto da influencer, devo dire che l'iPhone mi ha dato il risultato che volevo. Non me la sento di dire che non abbia funzionato perché ha funzionato. Sui colori ha fatto tutto quello che gli ho detto, sulla nitidezza ha fatto tutto quello che gli ho detto. L'ho anche passata ulteriormente in Photoshop e non vedo grossi artefatti, non vedo cose che non vorrei vedere. Quindi da questo punto di vista secondo me il file è buono, è molto buono soprattutto considerato che viene fuori da un telefono cellulare. È un file a mio parere pienamente lavorabile, eravamo in luce diurna, anche se devo dire che eravamo un pochino al coperto perché eravamo in questo tunnel negli alberi, quindi non c'era tantissima luce. Non so come avrebbe performato di notte, onesto, di notte secondo me non avremmo avuto la stessa performance. Fatemi sapere se vi interessa un confronto di questo tipo perché se questo video raggiunge mille like e mi dite tutti che volete fare questo test ma con una foto notturna, mi metterò in campo e faremo di nuovo un test con un file DNG, però questa volta scattato in notturno e magari faremo anche un confronto con quello che invece esce dalla macchina fotografica. A questo punto direi che ci rivediamo in studio per le considerazioni finali. Bene, eccoci di nuovo in studio con il nostro iPhone 15 Pro. Che dire ragazzi, io lo chiedo a voi perché a questo punto io ho la mia idea, però sono curioso di sentire anche la vostra. Per quanto riguarda il file, io trovo che il DNG di iPhone 15 Pro sia estremamente lavorabile. Riusciamo a fare quello che vogliamo con questo file, riusciamo a tirare fuori il colore che vogliamo, riusciamo più o meno a tirare fuori la nitidezza che vogliamo. Sulla texture forse ci sarebbe qualcosina da dire perché io ho l'impressione che questo telefono vada un po' a piallare le texture. La mia impressione è proprio questa, che vada a eliminare tutto quello che è materico per avere tutto perfettamente liscio e privo di rumore in qualsiasi situazione. Però l'effetto che ne deriva è un effetto un po' mi verrebbe da dire cheap, nel senso che non vedere la texture quasi da nessuna parte, e questo lo si vede particolarmente bene nei ritratti e quando si fotografano delle superfici piane, quindi non tanto magari sul soggetto di oggi. Però è una cosa che in certi aspetti può essere penalizzante. Per quanto riguarda la lavorabilità del file, però molto bene invece, perché il file risponde perfettamente, lo possiamo maltrattare, possiamo fargli fare tutto quello che vogliamo, e la resa finale è simile a quella che otterremmo con una macchina fotografica. La macchina fotografica vera sarebbe più nitida, quasi certamente, avrebbe più rumore, quasi certamente, ci permetterebbe magari di spingerci un po' oltre e di fare delle cose ulteriori, possibile, ma non tanto di più. Quindi devo dire che siamo abbastanza vicini. Fatemi sapere in un commento se avete fatto ulteriori esperimenti e i risultati che ne sono derivati. Questo per ora è il mio esperimento su un file DNG proveniente da iPhone 15 Pro. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale, perché se mi commentate con qualcosa di interessante, se qualcuno di voi ha sperimentato qualcosa di diverso, andremo poi a parlarne e io farò dei video shorts di risposta ai vostri commenti più interessanti. Per cui iscrivetevi subito, così non rischiate di perdervi questi preziosi aggiornamenti che fanno poi parte del mio modo di fare content, perché alla fine magari una risposta breve contiene un corollario a quanto ci siamo detti in un video. Quindi anche quelli vale la pena seguirli. Che dire amici, io non mi dilungo oltre e io e iPhone 15 Pro vi diamo appuntamento al prossimo video.